Musica Approvata la delibera per la realizzazione di 6 nuovi ospedali Edilizia scolastica, via libera alla semplificazione Vaccino, oltre 70.000 preadesioni, ovvero 50 in Piemonte Nuova edizione di Consiglio News, bentrovati L'Aula di Palazzo Lascaris ha approvato la delibera per 6 nuovi ospedali Saranno realizzati a Torino, Ivrea, Vercelli, Savigliano, Alessandria e Cuneo Approvata la proposta di deliberazione sugli investimenti in edilizia sanitaria Per realizzare 6 nuove strutture che si aggiungono alle due già programmate Nella precedente legislatura, le città della salute di Torino e Novara Il provvedimento è passato con i voti favorevoli della maggioranza E la presenza in Aula dei consiglieri delle opposizioni È previsto un finanziamento dell'INAIL di quasi 1,285 miliardi di euro Per le nuove strutture che saranno localizzate a Torino, 185 milioni Ivrea, 140 milioni, Vercelli, 155 milioni Savigliano, Saluzzo, Fossano, 195 milioni Alessandria, 300 milioni Cuneo, 310 milioni L'assessore alla sanità Luigi Icardi ha riferito di uno studio sulle necessità ospedaliere Partito circa due anni fa che ha evidenziato una rete vetusta e bisognosa di interventi Mi riferisco agli interventi di antisismica, mi riferisco agli interventi di antincendio Ma il fatto di avere strutture così vecchie, alcune risalgono a 1750 Determinano una logistica difficile, determinano un'impiantistica anche difficile da gestire, problematica Nel corso del dibattito sul documento sono intervenuti numerosi consiglieri di tutti i gruppi politici Un piano di edilizia sanitaria che manca, manca non perché non fosse stato fatto precedentemente Ma mancava una disposizione di fondi di questa entità e soprattutto un piano che riguardasse veramente Tocasse tutte le necessità e le priorità Io auspico che quanto prima venga costituito un osservatorio che monitorizzi e sappia seguire Un po' come avviene adesso già per il Parco della Salute Momento per momento l'evolvere degli avori Servirà a dare ai piemontesi la miglior risposta possibile per quello che forse il bisogno più sentito Che è quello di avere una sanità efficace, efficiente ed adeguata Bisogna fare attenzione rispetto al rischio di creare tante scatole che poi diventano un po' complesse da riempire Soprattutto quando stiamo parlando di ospedali e soprattutto quando parliamo magari di ospedali in luoghi un po' più periferici Edilizia scolastica, via libera alla legge che ne snellisce le procedure Le procedure per realizzare gli interventi di edilizia scolastica in Piemonte saranno d'ora in poi più veloci Con il via libera della legge, norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa Afferenti alla materia dell'edilizia scolastica Che il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza con 26 voti a favore Sono state coordinate le norme della legge regionale 28 del 2007 che regolano la materia Il consigliere Carlo Riva Vercellotti, Fratelli d'Italia, ha svolto la relazione di maggioranza Sottolineando che la norma interviene per ottimizzare il coordinamento Tra la programmazione nazionale e quella regionale in materia di edilizia scolastica Ha provato anche, con il parere favorevole dell'assessore all'istruzione Elena Chiorino L'ordine del giorno 715 presentato dalla consigliera Francesca Frediani, Movimento 4 Ottobre Con cui il Consiglio regionale impegna la Giunta ad attivarsi presso il Ministero dell'Istruzione Per sollecitare l'acquisto di misuratori di anidride carbonica Per le aule scolastiche e universitarie e successivamente anche per i luoghi di lavoro Legge elettorale aperte le consultazioni online Sono aperte fino al 5 febbraio le consultazioni online sulle tre proposte di riforma della legge elettorale Presentate in Commissione Autonomie e Affari Istituzionali Si tratta delle proposte di legge Norme in materia di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale Presentata dal consigliere Michele Mosca Lega e sottoscritta dal gruppo Lega Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta Presentata dal consigliere Domenico Rossi, Partito Democratico Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del o della Presidente della Giunta Presentata dai consiglieri Marco Grimaldi, Liberi Uguali Verdi, Primo Firmatario E Mauro Salizzoni, Partito Democratico È possibile presentare le memorie scritte online sul sito www.cr.piemonte.it Sono oltre 70.000 le preadesioni alla vaccinazione da parte degli over 50 Sono 230.000 gli over 50 non vaccinati in Piemonte Di questi, oltre 70.000 hanno recentemente fatto la preadesione E riceveranno la prima dose entro la data utile del 31 gennaio In modo da essere in regola con la scadenza del 15 febbraio Quando gli over 50 dovranno esibire il Green Pass da vaccinazione ai loro datori di lavoro Restano gli altri 160.000 che mi auguro si iscrivano in tempo utile Lo ha detto l'assessore alla sanità Luigi Icardi Intervenuto con i colleghi Elena Chiorino e Marco Gabusi In congiunta delle commissioni istruzione, sanità e trasporti Presieduta da Alessandro Stecco Per un'informativa sugli sviluppi dell'emergenza epidemiologica In questi giorni gli accessi diretti sono stati rimodulati In modo da riorganizzare al meglio la macchina vaccinale Ha spiegato Icardi e continuano comunque a essere permessi Per gli over 80 e per chi ha il Green Pass in scadenza Nelle 72 ore successive in tutti gli hub del Piemonte L'assessore Chiorino ha fatto il punto su assenze E incidenza del contagio in ambito scolastico Nella settimana 3-9 gennaio Le assenze comunicate dall'ufficio scolastico regionale Sono state del 15,7% per gli studenti 11,7% per i docenti 12,4% per il personale ATA Sul fronte trasporti dal 10 gennaio Si registra una riduzione del servizio del 10-20% A causa delle assenze del personale positivo o in quarantena Che si sommano a quelle degli autisti Che con l'obbligo del Green Pass hanno deciso Di non svolgere più il servizio, ha spiegato Gabusi Anche il numero degli utenti è in calo Circa il 28% per il trasporto ferroviario Il 15-20% per quello su gomma Covid e salute mentale Al centro dell'interrogazione che il consigliere Alberto Avetta Ha rivolto all'assessore Luigi Icardi La pandemia da Covid-19 si sta configurando Come un fattore di forte rischio Per la salute mentale della popolazione Isolamento, paura, incertezza, turbulenze economiche Sono elementi che se protratti nel tempo Causano gravi sofferenze psicologiche Alla luce di questa premessa Nell'ambito dei question time Il consigliere PD Alberto Avetta ha interrogato la Giunta Per sapere se anche il Piemonte Sulla base delle buone pratiche che altre regioni Stanno adottando Intenda prevedere misure analoghe L'attivazione di azioni a sostegno della salute mentale Ha esordito l'assessore regionale alla sanità Luigi Icardi Si è configurata negli ultimi mesi come una necessità A questo scopo è stata disposta L'assegnazione di un finanziamento di 520.000 euro nel 2020 E di 355.000 nel 2021 In favore delle aziende sanitarie locali Sedi dei cinque servizi di psicologia sovrazzonali Irap sull'e-commerce Il consiglio ha respinto la proposta di legge Presentata da Liberi Uguali Verdi Con 26 voti contrari e 16 favorevoli Il consiglio regionale del Piemonte Ha respinto la proposta di legge 123 Primo firmatario Marco Grimaldi Liberi Uguali Verdi Che incrementava l'Irap dello 0,92% Per le grandi aziende dell'e-commerce Con un valore di produzione netta Superiore al milione di euro La pandemia ha cresciuto il rischio di povertà Per le famiglie Ma sono anche cresciuti gli utili di alcune aziende Ha dichiarato Grimaldi Presentando il provvedimento Amazon fa 85 miliardi di euro di utili nel mondo Più di 4,8 solo in Italia Eppure per l'Irap dichiara un valore di produzione Di poco più di 18 milioni Che consente al Colosso di pagare solo 710.352 euro Motivando il no al provvedimento L'assessore al bilancio Andrea Tronzano Ha sostenuto che l'aumento dell'Irap Così come proposto Colpirebbe anche le altre aziende E non avrebbe le caratteristiche di equità Per questa edizione è tutto Prima di salutarvi Vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it Trovate notizie e aggiornamenti Sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti